è arrivato mi avverta appena sa qualcosa gli esami non hanno rivelato nulla sull'identità della ragazza uccisa sono dispiaciuto oh carissimo è venuto nel nostro locale a trovarci sono contento di vederla poi parleremo dell'incontro andiamo sopra a vedere lo spettacolo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti